Continuano senza sosta ad Adrano i controlli per l'uso improprio dei velocipedi. La polizia locale di Adrano ha infatti confiscato un altro velocipede nel Giardino della Vittoria, mettendo in atto le misure di repressione e prevenzione contro l'uso improprio delle biciclette elettriche. Il sequestro del mezzo è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando la villa comunale è strapiena di famiglie che passeggiano spensieratamente e bambini che giocano serenamente tra parco giochi e viali. L'operazione, che si inserisce in un quadro di controlli costanti e mirati, evidenzia l'impegno dell'amministrazione comunale e della polizia locale nel garantire la sicurezza dei cittadini e del corretto utilizzo di tali mezzi di trasporto. I controlli continueranno a tappeto anche su tutto il territorio urbano, con l'obiettivo di contrastare comportamenti illeciti e di assicurare un ambiente consono per la civile convivenza.